Arbitri Serie A, Festa Aia a Napoli, Orsato e Maresca sono i nostri osi men. Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video, non ci crederete ma è proprio così. Addirittura te lo scrivono sui giornali, non nascondono più niente. E mentre la Juventus viene continuamente indagata, viene continuamente accusata della qualunque e poi viene naturalmente anche condannata per volere di popolo, Per quanto riguarda le altre squadre, Inter in primis e Napoli, adesso vi vado a leggere il loro articolo, del loro giornale, che ha del clamoroso ed è assurdo che nessuno dica niente. Vi vado a raccontare in brevissimo, con poche righe, come il Napoli l'anno scorso porta a casa il campionato e soprattutto perché il nostro amico Kine, che è molto puntuale nel fare le richieste di penalizzazione nei confronti di calciatori e di società quando queste hanno la maglia a strisce bianco e nere e si chiamano Juventus, mentre dorme per quanto riguarda tutti i fatti gravissimi come per esempio una plusvalenza fasulla e non fittizia oppure i debiti per quanto riguarda la squadra merda azzurra di Milano, che continuano ad aumentare. Kine fa silenzio e andiamo a leggere quello che hanno scritto, perché gli arbitri partecipano ad una festa come vi ho letto nella intro e naturalmente nessuno ne parla. Pensate se questa festa fosse stata fatta a Torino, ma quello che è più assurdo è quello che è scritto dentro quest'articolo, quindi sedetevi comodi e lo andiamo a leggere. Prima però un invito a tutti voi a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina perché domani dalle 16 alle 18 ci sarà una live proprio su questo canale. Due degli youtuber più odiati dalla frangia merda azzurra parleranno proprio di tutto quello che sta succedendo nel campionato di Serie A. Due pesi e due misure per quanto riguarda gli illeciti sportivi, presunti illeciti, plus valenze e non solo calcio scommesse e altro. Uno di questi due è Menevanto a essere il più odiato su YouTube per quanto riguarda i tifosi merda azzurri, sono io e l'altro è il caro amico altrettanto odiato e forse anche di più Sergio Vessicchio. Quindi insieme io e lui domani in una live esplosiva tireremo fuori tutto il marcio del campionato e tutte le magagne dell'Inter. Zhang nelle patrie, galere, così ci dicono, fa un video, conferenza, chissà quando l'hanno registrato e poi lo mandano in onda come se fosse attuale e parleremo anche di quello. Quindi attivate la campanellina, mi raccomando, domani dalle 16 alle 18 accompagneremo l'evento dalla partita dei merda azzurri fino al fischio d'inizio e parleremo un po' di tutto quello che sta succedendo. Quindi mi raccomando ragazzi, detto questo, un bel like per supportare il video e naturalmente condivisione perché queste cose, la gazzetta dello sport, tutto sport e tutte queste carte da culo che possiamo chiamare, non lo scriveranno e lo andiamo a leggere noi. Lo scrive direttamente Napoli, calcio, attenzione, calcio Napoli 24, quindi non me la sto inventando io per quei amici napoletani che adesso sicuramente se la prenderanno con me. Per i merda azzurri non c'è problema, già lo sappiamo, loro negano l'evidenza della realtà. I napoletani alcuni, alcuni invece, sono più onesti, però tanti sono sanguini, quindi se la prenderanno con me dicendo che io mi invento le cose, allora vi faccio vedere proprio da dove prendo la notizia perché attenzione a Napoli, incredibile, ma si festeggiano i cento anni degli arbitri della sezione napoletana dell'AIA e che cosa ci dicono? Andiamo a leggere assieme. Oltre 500 arbitri hanno partecipato alla festa degli arbitri della sezione AIA di Napoli nella sala dei baroni del maschio Angiolino in occasione della ricorrenza dei cento anni di storia della sezione napoletana. Attenzione! Oggi ne parla il quotidiano, il mattino. La notizia è di ieri, io ve la do oggi perché ieri purtroppo non ho potuto registrare perché ho avuto tanti impegni personali. L'evento è stato organizzato dall'arbitro napoletano di Serie A, Fabio Maresca, e degli arbitri Francesco Paciolla e Luca Me e Lucio Mele. Tra i partecipanti anche altri arbitri campani come Marco Guida e l'assistente Ciro Carbone ma anche il presidente degli arbitri Carlo Pacifici. Cioè praticamente c'erano tutti quelli campani. Ma attenzione, attenzione, perché non c'erano solo quelli? Perché qualora fosse una festa campana allora si può capire. E' già comunque che tutti questi arbitri facciano una festa e la intitolino così. Già suona strano ma il bello deve arrivare in queste prossime righe che leggeremo assieme. E' la chicca finale del sindaco che ci aggiunge proprio, si può dire, una ammissione. Si costituisce praticamente con questa parola qua e ci fa capire come mai la giustizia sportiva e anche naturalmente i giudizi sul rettangolo di gioco dell'anno scorso e anche di quest'anno virano sempre verso una direzione. Non solo arbitri napoletani però all'evento hanno presenziato tutti i più importanti fischietti del campionato italiano. C'erano Orsato, Massa, Valeri, Mariani, Fabri, Doveri, Irrati, Di Bello e poi l'arbitro benemerito liberato e esposito. Il presidente regionale FGC Zingarelli, il presidente Ussi Coppola, l'assessore dello sport Ferrante, il sindaco Manfredi. Gli arbitri napoletani si avvicinano ai loro beniamini per le foto di ricordo. Attenzione, leggiamo. Orsato e Maresca sono i nostri osimen, dicono sorridenti. Ti prendono per il culo, un po' come quel PM napoletano che dice io sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus che poi naturalmente va a fare delle indagini proprio contro la Juventus e la Juventus viene penalizzata per le stesse cose che hanno fatto praticamente tutti gli altri. Te lo dicono sorridendo, però giustamente Maresca e Orsato sono i nostri osimen. Osimen adesso vediamo che sta avendo problemi con il Napoli quindi loro lo hanno già sostituito. Attenzione perché arriva la chicca della chicca ed è per questo. E questo video deve essere condiviso a manetta e trasmesso in tutte le televisioni. Contattatemi cari miei produttori televisivi. Vengo io a parlare, vengo io a fare il chiacchierone in televisione a raccontarvi i fatti veri però, veri. Che tra l'altro ce li raccontano loro, ma alcuni giornali, anzi tanti giornali, non li riportano. Andiamo a sentire che cosa dice il sindaco perché è qui. C'è un legame unico tra la città napoletana e l'associazione arbitri, ha detto il sindaco Manfredi. C'è un legame unico tra la città napoletana e l'associazione arbitri, lo ha detto il sindaco Manfredi. Ma voi vi immaginate se il sindaco di Torino, a parte che il sindaco di Torino non ci penserebbe mai e poi mai a dire una cosa positiva sulla Juventus. Ma voi ci pensate se per caso, e non perché magari non sia Juventino, potrebbe anche essere Juventino il sindaco di Torino, ma se mai lo dicesse, farebbe la fine del pollo a rosso. Voi vi immaginate se qualcuno degli arbitri si permettesse a scrivere una cosa, a dire una cosa del genere, perché è un giornale che l'ha scritto. Addirittura Napoli Calcio24 scrive Osimene Maresca e chi cavolo è? Orsato e Maresca sono i nostri Osimene. Pensate se fosse stata una testata giornalistica a scriverla per la Juve, che cosa sarebbe venuto fuori. Adesso vi rendete conto, a parte che era abbastanza chiaro già da tempo, come mai la giustizia sportiva è così veloce con alcune società ed è così lenta con altre società. A fare osimenti, sei mesi di proroga scaduti a giugno, luglio, agosto, settembre, o ad agosto, adesso non mi ricordo quando sono scaduti, o comunque già scaduti da tempo. E Kine va a chiedere la prova a TV per quanto riguarda Gatti e la partita contro il Verbo. E noi ancora seguiamo il calcio ed è per questo, per questo che domani dalle 16 alle 18 non devi prendere impegni domani dalle 16 alle 18, non si tromba nemmeno. Si guarda la live di Peter Pan insieme a Sergio Vesicchio, che sputtaneranno letteralmente l'Inter, ma non con invenzione, con tutti gli articoli dei giornali che abbiamo riportato fino adesso. Quindi faremo un riassunto e vi porteremo anche qualche notizia del futuro prossimo. Detto questo, il video finisce qui, non c'è bisogno che aggiungo dell'altro, il resto ce lo potete e ce lo dovete mettere voi. Come sempre, se siete arrivati fino a qua, siete dei super eroi, non vi rimane che mettere un super like, commento, che è molto importante. Basta ascoltare il pensiero degli altri, facciamo sentire il nostro e soprattutto facciamolo ascoltare anche agli altri. Condividete questo video proprio per dar fastidio, come da un anno a questa parte sto facendo io e mi state aiutando tantissimo. Iscriviti al canale, se ancora non l'hai fatto attiva la campanellina perché domani ti arriva la notifica e sarai con noi in live. Uno di voi magari sarà sorteggiato o entrerà a fare un saluto e a dire la propria. Chissà come andrà questa live, vediamo. Se volete potete contattarmi in privato, tantissimi lo stanno già facendo, per questo vi ringrazio di cuore. Instagram, Peter underscore Pan underscore Bianconero. Il video finisce qui, io vi saluto e vi ringrazio. Ciao a io!